33 trentini stretti in tre trulli traducono dentro un tram di Trento 13 trucci di traditori che tramano tremando contro il trono. Come 22, 9 minuti e mezza. Enrico Montesano. Va bene, va bene, va bene, va bene, basta, basta, ho capito, ma rendo, a ritorno a via il treno. Renato Pozzetto. Un attore che fa lavoro con le donne, bravo. Vergoglia, vergoglia. Divertenti più che mai alle prese con problemi molto particolari. Culo e camicia. Domani sera alle 20 e 30 su Italia 1.